Il ciclo economico è un fenomeno che descrive la variazione periodica dell'attività economica di un paese, che si manifesta attraverso fasi di crescita, espansione e fasi di contrazione, recessione. Durante la fase di espansione del ciclo economico, l'economia di un paese registra una crescita del PIL, dell'occupazione e degli investimenti. Le imprese sono in fase di espansione e i consumi aumentano, spingendo l'economia verso l'alto. Durante questa fase, si possono verificare anche fenomeni di inflazione, in cui i prezzi dei beni e dei servizi aumentano. Tuttavia, dopo un periodo di espansione, l'economia può entrare in una fase di recessione. Durante una recessione, si verifica una contrazione dell'attività economica, con una diminuzione del PIL, dell'occupazione e degli investimenti. Le imprese possono ridurre la produzione e licenziare dipendenti, mentre i consumi diminuiscono. Durante una recessione, si possono verificare anche fenomeni di deflazione, in cui i prezzi dei beni e dei servizi diminuiscono. Le recessioni possono essere causate da diversi fattori, come crisi finanziarie, shock esterni, come guerre o crisi energetiche, o squilibri interni nell'economia. Le politiche economiche, come il taglio dei tassi di interesse o gli stimoli fiscali, possono essere adottate per cercare di contrastare una recessione e favorire la ripresa economica. Le recessioni possono avere effetti negativi sull'economia e sulla società, come un aumento della disoccupazione, una diminuzione del reddito delle famiglie e una contrazione dei consumi. Tuttavia, possono anche avere effetti positivi a lungo termine, come la riorganizzazione e l'adeguamento delle imprese, che possono migliorare l'efficienza dell'economia. Per monitorare il ciclo economico, gli economisti utilizzano diversi indicatori, come il PIL, l'occupazione, l'inflazione e gli investimenti. Gli organismi internazionali, come il Fondo Monetario Internazionale e l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, forniscono analisi e previsioni sul ciclo economico globale e sui rischi di recessione.